e bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi siamo nelle build battle questo è il primo la prima volta che le porto sul canale perché come piacciono tantissimo una volta su 5 riesco a vincere poi gli altri aperti cioè statistiche molto buone vi dico ora aspetteremo che entrano tutti e poi cominciò ok ragazzi stiamo per partire c21 3 trasporto precipizio vediamo cosa riusciamo a costruire per prima cosa cambiamo il terreno mettiamo la terra facciamo ok non so se sia meglio questa terra o l'altro comunque va bene cominciamo a costruire prendiamo nella cobblestone vediamo pietrisco ok prendiamo della cobblestone e proviamo a fare poi si dice appunto un precipizio che facciamo un po frastagliato qui ok e ora diciamo otteniamo le mura ok ragazzi questa secondo me dovrebbe essere una tipo presente scogliera tipo quella che ora facciamo l'omino che si sta buttando sperando che mi fa usare gli oggetti che a mente mettiamo così ok ok copriamo tappiamo i buchi ok qua per ultimo qua e queste due non qua qua ok dovrebbe essere vabbè se poi non mi interessa facciamo questo strato qua e questo coso così con uno stand stand ok no mi fa usare lo stand e ora che cazzo uso ok ok vabbè il mio primo che farà sarà il peggio il peggio guardate ragazzi già che stanno votando rosso non ho avuto tempo di v ma non mi frega niente va bene cioè ragazzi questo questo non mi rappresenta è una piattaforma sì con un po di lava sufficiente però c'è non è migliore anche per lui ok questo più o meno è copiato dal mio già copiato volevo vedere simile al mio quindi sufficiente perché è avuto la mia stessi di guardate questo fa schifo no non mi piace anziché errore è brutto questo pure fa schifo perché questi così di ferro non c'entrano niente c'è cosa costruito il portale attenti precipizio questo li voto non è un gran che perché non mi piace fa schifissimo ragazzi fa schifissimo questo c'è una cosa mi rappresentano queste due colline messi così a caso io non lo so sono arrivato a terzo caffi sì ho capito lui però non è arrivato a terzo sul polio sì ora lo facciamo un'altra perché voglio vincere oggi ok ragazzi siamo in quest'altra partita nel frattempo che aspettiamo faccio questo parkour ok ragazzi al salto finale ok abbiamo concorso il parkour ok sono che cazzo possiamo disegnare con paradiso boh non mi viene niente in mente boh ragazzi non saprei cos'altro fare boh oltre che le nuvole perché paradiso non mi viene niente in mente cioè non saprei come rappresentarlo con le nuove e per capito il cielo buono questi così non so come li vengono in mente boh che devi disegnare uno con paradiso aspetta che metto un cartello con scritto nuvole perché alla fine neanche io potrei capire cosa sono potrebbe capire un ammasso di lano adesso così random mettiamo quelle qua le particelle ok vediamo dove possiamo mettere cartello scriviamo sono sono nuvole ok mettiamo ok ok cioè ragazzi questo ha fatto l'angelo questo mi sta simpatico quindi il voto non è un gran che anzi sufficiente ok vedo tutti quando la lana rossa in mano quindi farà schifo al cazzo questo non riesco a capire cosa è che cosa mi rappresenta questo mi sa che ha capito bene cosa è cosa bisognava fare il paradiso si questo si fa schifo al cazzo però abbastanza quindi il voto non è un gran che so perché ho messo nel urcolone questo ha fatto questo ha fatto l'inferno il paradiso ma questo mi piace è stato bravo si mi sa che vince lui questo cos'è questo cos'è sono addio tu chi sei madonna è questa caccia mmm bellissimo si e dicono anche a me che è bellissimo questo un po' non è un gran che un zio fa schifo al cazzo cioè una faccia tipo gatto questo ragazzi fa letteralmente schifo ragazzi un po' che cazzo è qua ma almeno la faceva aperta la casa ah non è una casa ok pensavo che fosse una casa ok questo mi sa che non l'ho votato ok ok questa sarebbe una poltrona mmm si c'è sta vento sta cacata sperivo che vincevallo che ho fatto ci aveva fatto quello la l'imperno al paradiso allora vabbè aspettiamo castello mmm ma andano sempre così difficili non è che vediamo su cosa lo possiamo costruire un castello su o su questa o su o su lo faremo o con questi blocchi o con questi blocchi e un po' di questi blocchi ora ora cambiamo il pavimento con l'erba se ok e incominciamo a a fare il castello facciamo così ok ragazzi il mio fa schifo al cazzo letteralmente cazzo cazzo non ho finito non me ne era accorto cazzo no no o o fa schifissimo ok non so che il mio fa schifo però questo si avvicina però è piccolino perciò non è finito perché non ho fatto un cazzo praticamente che è successo ragazzi mi sa che è crashato il server lo resteremo a vedere cazzo cazzo comunque ragazzi questo video finisce qua mi dispiace che diciamo il server si è crashato e quindi non siamo riusciti a finire quella build battle continueremo nella prossima e ciao ciao ciao